Si terrà presso la sede provvisoria del Comune di Posta un consiglio provinciale straordinario durante il quale, dopo le comunicazioni del Presidente della Provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi, i consiglieri ascolteranno le istanze della comunità colpita dal sisma, facendo un punto sulle attività svolte sinora e le criticità riscontrate. Abbiamo raccolto con piacere la sollecitazione del consigliere COSU di svolgere un consiglio provinciale nelle zone colpite dal sisma, dichiara il Presidente Rinaldi. Questa iniziativa servirà ai consiglieri provinciali ad avere un quadro della situazione più delineato grazie alle testimonianze dirette e sarà anche l'occasione per illustrare le azioni e le attività che la provincia sta portando avanti di concerto con gli altri enti all'interno del Comitato Permanente per la ricostruzione post-sisma che si riunisce a cadenze regolari presso l'Ufficio per la ricostruzione della Regione Lazio.